serve raga allora 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 cioè quando 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 purtroppo se verifichino queste cose poi è normale che dopo ci attaccano ce fanno io non ho capito per quale motivo l'arbitro andate rigore cioè se ci lamentiamo delle elite che giocava palla a mano pure questo non è che c'è ceva 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 liscio allora rigore nettissimo calcio di rigore per verona diciamo che abbiamo rubato la partita io dico io sono essa me mi piace sono esso cioè abbiamo vinto su una sculata su un gol che una doppia deviazione perché sinceramente come abbiamo prodotto abbiamo prodotto poco e nulla un primo tempo osceno come al solito un secondo tempo diciamo un pochino migliore il verona non meritava di perdere non meritava abbiamo giocato tanto sapevo io vedete che c'è la gente purtroppo io io non sapevo ormai come 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 dillo cioè io finché avremmo abbiamo questo cazzo di merdoso di allenatore cioè se parla adesso luvis enrico ma dio lo volesse che venisse un allenatore c'è un vero allenatore questo veramente è una cosa orrenda come al solito giocavo del merda come al solito come al solito come al solito cioè abbiamo fatto un furto un furto colossale al verona cioè il verona veramente sta una merda ma non c'è bisogno cioè la juve non c'è bisogno per vincere capito questi già stanno una merda non gli da manco quei rigore che cazzo capisce voglio dire cioè io capisco tutto quello che cazzo mi pare che magari c'è a volte se sbagliano ma il bar ma che cazzo fanno questi cazzo che cazzo fate poi tanti se lamentiamo perché con la salernitana cioè con la salernitana noi abbiamo si siamo incazzati che abbiamo loro ci hanno fatto il furto perché dicono che ci hanno fatto il furto ok cioè quando abbiamo giocato per 80 minuti contro la salernitana di merda così di merda che non meritiamo manco di pareggiare manco di pareggiare cioè oggi abbiamo vinto abbiamo vinto a culo con un gol a culo con la doppia deviazione che azioni proprio veramente fantastiche non si ne so viste e poi un rigore stranetto perché era rigore tutta la vita quello non glielo dai e poi se andiamo alla metà dell'altri c'era raga stiamo se zitti ma stiamo se zitti e raga stiamo se zitti porca puttana stiamo se zitti come bella figura stiamo se zitti cioè bisogna essere anche onesti in lato là bisogna essere onesti c'è una juve che fa schifo che gioca da schifo come ho detto con l'intero un primo tempo orrendo poi in secondo tempo abbiamo giocato meglio però come al solito buttiamo via a meno 70 minuti li buttiamo sempre nel cesso li buttiamo perché non c'è un allenatore un cazzo allenatore che sta a far giocata squadra e sta sempre giocando sul cortomuso fa un gol e poi magari tutto tutto a posto cioè qui non se ne esce mai questa storia non se ne esce questa storia io mi auguro veramente che se si parla di lui se riga arrivasse a sto cazzo d'allenatore perché basta 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 poi scappano fuori è vero che con l'intero a me non me ne frega un cazzo voglio sempre vincere pure del merda però a vedere sempre le solite partite di merda un primo tempo che mi sono addormito un secondo tempo che sembra che si muovono un po di più e il verona insomma se l'è giocata la partita e vince a cune in ogni epoca e rigore tutta è una testa di cazzo cioè io voglio sentire voi giuventini onesti quanti saranno quanti saranno i giuventini onesti che diranno eh 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 cioè gliel'abbiamo rubata gliel'abbiamo rubata il pareggio lo meritava ok il pareggio lo meritava questo voglio sentire perché sennò veramente chi dice che bada no a posto non ce ne frega un cazzo tu non sei no giuventino ok tu sei un tifoso fottuto che non capisce un cazzo un tifoso corpara occhi non capisce un cazzo bisogna essere anche onesti nella vita perché se tu parli così e dici che non te ne frega un cazzo ah però l'arte qua non ce ne frega un cazzo significa che nella vita sei disonesto sei una persona disonesta pure nella vita sei una persona disonesta anche la vita se non ammetti cose del genere sei una persona disonesta ok perciò bisogna essere onesti quella è la rigore poi se pareggia magari io lo parava pure rigore può essere pure io lo parava pure però da glielo perché quelle rigore punto ok comunque io devo sempre detto vada ragazzi io spero e non vedo l'ora che sto disgraziato se ne va via perché io mi sono rotto il cazzo di vedere le partite sempre de merda ok mi sono rotto il cazzo e questi esultano sempre sulle partite che se vincono de cortomuso de merda de culo mi sono stufato mi sono rotti i coglioni ecco mi sono rotti i coglioni non ce la faccio più non ce la faccio più fanculo